Ciao ragazzi, allora prima di parlarvi dell'argomento di oggi, sono qui con il mio scorpion che se io mi siedo un attimo lui viene subito, vi volevo solo aggiornare su una novità che avremo alla giornata di approfondimento sui cani antilupo che faremo il primo settembre a Faradalpagu in provincia di Belluna. Allora si è aggiunto come diciamo docenti anche Dario Capogrosso che lui è dottore in scienze e tecnologie dell'allevamento che farà alcuni interventi secondo me molto interessanti. Uno di questi è il rapporto che i cani hanno con i parassiti laggiù dove in alpeggio si cibano appunto di resti del greggio che è una cosa diciamo come tradizione molto antica e che ultimamente è stata un po' abbandonata e si fa di tutto per eliminarla come tradizione perché ovviamente ci sono le case produttrici di mangimi che spingono in tal senso e pur di assecondare questi grandi produttori, questi grandi industriali ovviamente si cerca un po' di ingigantire le cose e di inventarsi di tutto per raggiungere gli obiettivi chiamiamoli commerciali. Ecco lui farà un intervento molto interessante su questo aspetto ipotetico che qualcuno dice che si possono trasferire fra resti del bestiame, cani, ci inizia un ciclo continuo quindi in sintesi si vorrebbe dire che il lupo può uccidere per cibarsi dei capi delle greggi, degli animali eccetera e questo lui lo può fare e in teoria lo deve fare perché è una cosa naturale. Invece i cani, quelli da guardiania che dovrebbero difendere le greggi, noi dovremmo secondo alcuni mantenerli a crocchette che già sono indeboliti perché sono animali domestici rispetto al lupo selvatico. Se noi poi ancora non cerchiamo di attaccarli in qualche modo al greggio e non gli diamo uno scopo di vita di difendere il greggio ovviamente questo non avverrà mai ma chi produce mangimi e nello stesso tempo chi organizza e struttura un po' tutta una serie di parametri e di passaggi non sembra così interessato a questi argomenti ma è più interessato ad altri e quindi Capogrosso che tra l'altro un allevatore molto grande uno dei più grandi se non il più grande al mondo di pastori maremano abruzzesi verrà a fare questo, fare alcuni interventi quindi si dividerà il tempo della giornata di approfondimento con me anche perché lui ha questa laurea in questo settore veterinario ed è molto competente in questo settore. Poi parlerà anche di altri argomenti tipo alcuni cani che possono magari non essere indicati come cani da guardiani antilupo ma possono essere indicati come cani che proteggono magari dalla volpe e da altri piccoli predatori, altri animali da cortile quindi sarà un intervento sicuramente molto interessante. Colgo anche l'occasione per dirvi che lunedì questo che viene 15 alle 24 scade questa possibilità che voi avete di avere questo forte sconto sulla quota di adesione quindi anche se siete sotto l'ombrellone o state partendo magari farci sapere che voi pensate di partecipare a questa giornata senza aspettare poi gli ultimi giorni potreste risparmiare molto denaro. Bene, questa era la novità che vi volevo dire, mi sembra che Scorpion sia abbastanza d'accordo con le mie considerazioni quindi posso andare avanti nel parlarvi di quello che è l'argomento di oggi e che ha proprio una stretta relazione con ciò che vi ho appena detto. Il cucciolo di cane da guardia quando lo portiamo a casa, cosa dargli da mangiare e dove dargli da mangiare? Beh, tanto cosa dargli da mangiare ognuno può consultarsi col proprio veterinario ma io sono assolutamente convinto che se noi diamo mangiare fresco al cane, al nostro cane da guardia che è un atleta avremo tantissimi vantaggi rispetto a dargli mangimo e confezionato per quanto sia di alta qualità e garantito come privo di conservanti ma non potrà essere privo di altre cose anche solo i sali che contribuiscono sempre a fare un po' uscire di forma al nostro cane che invece è un atleta ha bisogno veramente di introdurre nel proprio organismo del cibo fresco, del cibo vero su tutti gli aspetti e non conservato. Quindi poi lì insomma per quelli che seguo io, per quelli che come dire prendono i cani da me sono studenti o vengo nei miei corsi è ovvio che poi posso entrare nei dettagli o perlomeno dire come faccio io come faccio fare io a tutti i miei clienti e questo praticamente è una parte molto importante direi ancora più importante è dove dargli da mangiare al cucciolo, non è che voi potete dare da mangiare i primi giorni al cucciolo ovunque e poi pensare poi di avere una buona gestione, bisogna individuare un posto dove il cucciolo gli si dà sempre da mangiare e questo diventerà poi un po' il luogo dove lui riceve la sua riserva di cibo parte della riserva di cibo, questo è assolutamente molto importante, quindi non so se vi rendete conto che i primi giorni che voi portate a casa il cucciolo possono compromettere molto del futuro rapporto che voi avrete con lui sia sotto il profilo del rendimento come guardiano specialmente nel poter già avere in tempi molto brevi le sue prestazioni, quindi favorirlo nella sua maturità di guardiano, di protettore della famiglia eccetera e sia proprio come il rapporto che lui verrà avere con voi perché se voi non stabilite un luogo non stabilite dove tenere il cucciolo fin da subito, non mettete delle regole subito quindi lui non appena entrerà farà un percorso per la sopravvivenza poi voi in qualche modo cercherete di porre rimedio, interromperete questo rapporto di sopravvivenza glielo cambierete, ecco che lui inizierà già a partire fin da cucciolo ad aver poco fiducia di voi perché non dimenticate mai che tutti gli animali, compreso il cane, ecco bisogna cercare di trasmettergli poche cose ma che siano sempre uguali, che siano molto chiare e che lui possa in qualche modo collegarlo ai suoi istinti per avere la certezza di trovarsi un luogo dove si vede sia garantita la sopravvivenza ma specialmente si può fidare di tutte le persone che lo gestiscono bene, spero di avervi fatto piacere con questo video vi sollecito ancora magari a prendere visione del link che vi ho messo qua sotto perché se vi voleste iscrivere poi per il primo settembre che ci troviamo tutti là con i pastori specialmente se avete cani da gregge eccetera eccetera sarà una cosa importante il fatto che abbia voluto, abbia fatto pressione su Dario Capogrosso di partecipare proprio come decente a questo corso è proprio per il fatto che in teoria noi potremmo essere assolutamente concorrenti ma non lo siamo per niente perché abbiamo in comune due cose uno studiare il cane, due cercare di favorire in tutti i modi gli allevatori che in questo momento sono in crisi per le predazioni dei lupi e nello stesso tempo anche cercare di introdurre nel modo giusto il lupo fra gli animali che hanno diritto di vivere nei nostri boschi e si può solo facendo, cioè si può solo fare dando degli strumenti reali, effettivi e struendo bene gli allevatori che salgono in alpeggio oppure ce li hanno addirittura attorno a casa e che per il ritorno di questo animale non è giusto che ne portano tutte queste conseguenze e si può solo arrivare a dei risultati certi sia imparando a scegliere bene i cani ed è una cosa che vi spiegherò a questa giornata di approfondimento e sia avendo la formazione giusta per come gestirli. Bene, vi ringrazio tanto quindi ancora per avermi seguito fino a questo punto anche Scorpio, credo che vi voglia salutare, Scorpio, ecco vedete che vi fa un bel saluto un colpetto di coda ve l'ha dato e ci vediamo al prossimo filmato, a presto!